Questo programma è offerto da Alessandro Pagliai, il direttore sportivo di questi lupi pallavolo di serie A2 ma soprattutto sei anche il responsabile della serie B. Intanto partiamo da questi nuovi acquisti della prima squadra e soprattutto anche degli aggregati. Sono arrivati tutti i giocatori che noi abbiamo scelto quindi in fase di campagna acquisti avevamo puntato su insieme all'allenatore insieme agli altri componenti dello staff avevamo puntato su a portare a Santa Croce dei giocatori che siamo riusciti effettivamente a portare qua. Ora è compito dello staff tecnico di tutti noi di riuscire con l'allenamento e tutto il resto a creare un'amalgama tra di loro in modo che possano rendere quello che ci aspettiamo. Vi aspettate ma soprattutto ha detto anche coach Mastrangelo veramente importanti giocatori ma avete preso il mister vincente. Più di questo cosa vorrei dire? Vincenzo indubbiamente la scorsa stagione ha fatto qualcosa di incredibile. Partendo non da favoritissimo è riuscito a creare veramente un bel gruppo e a farlo giocare bene in tutte le situazioni sia in situazioni molto difficili che in situazioni favorevili e questo è riuscito a farlo per tutto il campionato quindi complimenti a Vincenzo veramente. Grazie a tutti. questo programma è offerto da Grazie a tutti.